Seconda salita pazza Via, via, siamo in San Bartolomeo, frazione di Pro-Prorestinolo Com'è? Frarostino Frarostino Via Piani questo, questo è Via Piani Ah, siamo arrivati, siamo arrivati ad essere lì, c'è la bandierina a scacchi Via Piani Comunque mi sono andato a tornare a scendere Comunque mi sono andato a lei già fatto questa Ci sei già stato, dai, sicuro Perché c'è la nebbia qua Nebbia agli articoli, guarda quanta nebbia Nebbia, figlioli, sentiva 11 gradi ci sono, figlioli Fa freddo, raga, fa freddo Salutate la macchina Ciao, macchina E' un po' divertente Qua? E qua vivi a destra Angrogna Angrogna Ma ti ha letto Sì, sì, guarda lì Angrogna Non sembra la parola La parola di là No, no Angrognasti L'angrogna E' carino come parola, mi piaceva Dite che siamo andati qua per mangiare pubi, dite la verità Siamo andati per andare pubi Caterina Caterina c'è stato Minchia, meno 11 gradi, per favore ti mangi tutto di questo Non è che un montone Sì, bisogna vedere la qualità del cibo, tutta quella roba lì Perché ti pare che il cibo... Aspetta, chi l'ha trovato? Ah, dicevi che sarà Chiara Chiara Non troverò Come?